Allora, siamo arrivati alla quarta e ultima parte di questo seminario sulle licenze per dati, capirle una volta per tutti, arriviamo a fare il focus sul mondo dei dati pubblici. Allora, spesso quando si parla di open data si dà per scontato che si parli di dati pubblici, in realtà non è vero, cioè il mondo della pubblica amministrazione è sicuramente quello in cui si è aperto il dibattito, in virtù di quel concetto di open government e di trasparenza, per cui la pubblica amministrazione dovrebbe il più possibile essere trasparente, essere una casa di vetro in cui il cittadino può verificare anche attraverso l'analisi di dati se la pubblica amministrazione sta compiendo bene la sua missione. Ok, un tema che è molto più sentito nei paesi anglosassoni rispetto a che da noi, dove appunto c'è una percezione diversa della pubblica amministrazione, ma ripeto, andiamo su temi che sono più di scienza politica che di diritto. E poi parleremo del cosiddetto principio open by default, che è molto interessante. Allora, innanzitutto, giusto una panoramica di come funziona il diritto d'autore degli enti pubblici. Il diritto d'autore, cioè gli enti pubblici hanno un diritto d'autore, lo dice la legge. In realtà ci dice, in questo articolo 5, la legge dice che non hanno un diritto però sui testi degli atti ufficiali. Ok, quindi è molto restrittiva come norma. Cioè vedete che dice testi degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni. Vuol dire che in pubblico dominio sono solamente i testi, ovvero il testo della delibera del sindaco che chiude le scuole, cioè il giornale che vuole pubblicare il testo della delibera del sindaco che chiude le scuole, non deve chiedere il copyright, non deve chiedere una licenza al sindaco o al segretario comunale per poter esporre questo testo. Perché è un testo ufficiale e quindi diventa pubblicamente e liberamente distribuibile da tutti. Se io devo citare una sentenza, ad esempio io avvocato, faccio un parere oppure faccio un articolo su questi argomenti e devo citare una sentenza del Consiglio di Stato che ha deciso su questi temi e cito magari anche 10 righe, 50 righe, una parte molto densa di questa sentenza, non devo chiedere il permesso. Ok? Perché la sentenza è una sentenza, un atto diciamo ufficiale, pubblico. Però l'articolo 11 ci dice che al di là, al di fuori di quel caso del testo degli atti ufficiali, le pubbliche amministrazioni hanno un diritto d'autore. Quindi all'amministrazione dello Stato, alle province e ai comuni, spetta il diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e al loro conto di spese. Quindi non è che vi venga in mente domani di andare sul sito del Politecnico di Torino o dell'Università Statale di Milano o del Comune di Asti a prelevare tutto quello che c'è, foto, testi, perché tanto sono del Comune. No, non è che è così. Solo i testi degli atti ufficiali, su tutto il resto c'è diritto d'autore. Quindi le norme sono solo apparentemente in contraddizione e poi, tra l'altro, l'interpretazione dell'articolo 5 da parte della giurisprudenza e della dottrina giuridica è sempre stata molto restrittiva. Quindi solo i testi degli atti ufficiali. E qua ci sarebbe da aprire un capitolo, perché un informatico mi potrebbe dire ma un dataset è comunque un testo. Se io te lo metto fuori in CSV, tecnicamente è un TXT diviso da delle virgole, no? Poi vabbè, avrete da sindacare, ecco esatto, vedo già dalle facce brutte. Però, formalmente, anche un sito web, anche se contiene delle tabelle, dei grafici, in realtà, se io vado a prendere il codice, il codice HTML non è un testo. È codice, ma... Però è un insieme di caratteri, diciamo. Però è chiaro che questo mio è un mio volupindarico. È chiaro che il legislatore del 41, quando ha scritto questa norma, non pensava a queste evoluzioni. Pensava ai testi in senso classico. Quindi l'interpretazione è quella più classica. Però, ad esempio, a volte, in testi degli atti ufficiali, pensate al piano regolatore di un comune, a volte non c'è solo testo. Cioè, il testo è inframmezzato da grafici, da planimetrie, da tabelle. E lì, un'interpretazione molto ostentativa di questa norma vorrebbe dire che io dovrei stralciare ogni volta le figure. E praticamente quel testo lì non serve più a nulla, perché un piano regolatore ha senso se io posso diffondere anche le immagini, le planimetrie e via dicendo, i progetti. Ecco, questa roba qui andrebbe chiarita. Cioè, l'articolo 5 andrebbe riscritto e messo giù meglio. Io ho proposto, se andate a cercare sul mio blog, c'è un mio post che si chiama una norma per l'open data in cui propongo una modifica dell'articolo 5 che sicuramente nessun legislatore si filerà perché toccare la legge sul diritto d'autore ci vuole il sacro crisma del Papa e di altre varie religioni per cui, boh, certe cose si fanno solo se arriva una direttiva europea che ci obbliga a farlo. Comunque, chiusa questa polemica, partiamo da questo presupposto che quindi le pubbliche amministrazioni hanno un copyright sui loro dataset. però, arrivati in un momento storico, come appunto vedete i primi anni della decada del 2010, insomma, il discorso dell'open data si stava pian piano facendo strada e si diceva a queste pubbliche amministrazioni che era il momento di metterli fuori questi dati perché c'erano anche le tecnologie per farlo. E allora, non solo le tecnologie, c'erano le licenze, quindi c'erano gli strumenti giuridici per fare open data, però le pubbliche amministrazioni erano, possiamo dire, inerti, come sono inerti su tanti altri fronti, erano inerti anche nel mettere fuori i dati. Allora, il governo dell'epoca, che era il governo Monti, si dovette inventare un meccanismo per forzare questa inerzia e si inventò l'open by default che arrivò nella legge, eccolo qua, era appunto un principio introdotto sull'onda dell'entusiasmo per il tema open data e trasparenza che aveva appunto accompagnato e diciamo infarcito il dibattito scientifico in quegli anni. È stato fatto nel decreto, cosiddetto decreto crescita 2.0 che poi è convertito in legge nel dicembre del 2012, la legge 2.2.1 del 2012 e lo scopo era proprio quello di sfruttare in positivo l'inerzia della PA. Quindi la pubblica amministrazione mi mette fuori i dati ma si dimentica di mettere la licenza. Allora, se ti dimentichi o se fai orecchie da mercante e fai finta di dimenticarti, allora io, legislatore, ti forzo in questo modo. Però, purtroppo, che cosa hanno fatto? Non hanno inserito una norma all'interno della legge sul diritto d'autore dove ci si poteva aspettare questo intervento legislativo, cioè tutti se lo aspettavano all'interno dell'articolo 5 e invece no. Per una questione di vetti trasversali tra ministeri, per cui la legge sul diritto d'autore è sempre stata competenza delle commissioni culture e del ministero cultura e beni culturali, via dicendo, si prese la briga invece di fare questa riforma il ministero della funzione pubblica. Ok? E che all'epoca penso fosse passera, però non vorrei dire un'eresia. Comunque, il ministero che invece è competente sull'ambito del codice dell'amministrazione digitale e norme sulla pubblica amministrazione. E infatti la norma fu inserita nel codice dell'amministrazione digitale, ovvero il decreto legislativo 82 del 2005, questo che vedete qua, chiamato più comunemente CAD, CAD non nel senso di voi ingegneri e architetti, ma di codice dell'amministrazione digitale. E fu fatto nell'articolo 52, che si intitola accesso telematico e riutilizzo dei dati. Quindi questa è la norma italiana dell'open data, potremmo dire. È la norma principale dell'open data, perché è quella che dice sostanzialmente questa cosa qui che leggiamo insieme. Cioè i dati e i documenti che i soggetti pubblicano, i soggetti che rientrano in questa legge. Una volta c'era scritto le pubbliche amministrazioni, ma poi hanno ampliato il campo e quindi hanno detto usiamo generico i soggetti, e poi c'è una descrizione. I dati e i documenti che i soggetti pubblicano con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguarda i dati personali. Rimaniamo un attimo sulla parte rossa, sul si intendono. Eccolo il by default, cioè se tu pubblica amministrazione e ti dimentichi di mettere la licenza, io legislatore dico che i cittadini possono far finta che la licenza ci sia. Cioè possono utilizzare il dato come se la licenza sia stata esposta. Ok? Come se la licenza fosse stata esposta, scusate il consecuzio un po' svizzera. E non da poco l'ultima aggiunta, cioè ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguarda i dati personali. Cioè, un bel thriller, vuol dire che in realtà avrei dovuto comunque dirvelo all'inizio di questo seminario. Cioè questo seminario parla dell'aspetto delle licenze e quindi io non mi sono preoccupato della questione privacy. Se no avremmo dovuto fare un seminario di 5 ore. Perché tutte le volte che c'è anche dato personale, cioè che il dato che sto trattando è collegabile ad una persona, ad una persona fisica, allora devo farmi pure tutti i trip e tutte le preoccupazioni che mi dà la normativa sulla privacy, il famoso GDPR. E qua lo dice chiaramente, le pubbliche amministrazioni mettono fuori i dati, lo possono fare, ma l'open by default non scatta se ci sono dentro dati personali. Cioè la pubblica amministrazione ad esempio che mette fuori le famiglie che hanno avuto un'agevolazione per la mensa dei figli a scuola, quello è un dato che magari deve essere messo fuori perché i cittadini hanno diritto a vedere perché una famiglia ha preso un'agevolazione rispetto ad un'altra, ma lì essendoci la privacy del bambino e dei genitori che devono essere tutelati, allora lì non scatta l'open by default. Ok? Però in tutti gli altri casi, e credo che nel caso che riguarda un evento come quello di oggi, cioè dati geografici, tendenzialmente non mi farei preoccupazione, a meno che appunto il dato geografico sia palesemente ricollegabile ad una persona fisica, ad esempio il dato geografico delle persone che entrano al pronto soccorso. Eh, allora, se io voglio fare, raccogliere il dato di quante macchine sono entrate al pronto soccorso, lo posso fare, ma se io collego le macchine alle targhe, comincio a essere dato personale. E un dato personale delicatissimo, perché una volta viene chiamato dato sensibile, cioè sto dicendo che la gente sta andando al pronto soccorso, quindi c'è una questione di salute, e quindi entro in un campo molto molto delicato. Quindi tutti quei casi dovete stare attenti a, vi si deve accendere la lampadina anche della privacy, che però non è oggetto del seminario di oggi, siamo già andati lunghi così, figuriamoci. Definizione di dato aperto, cioè, l'abbiamo già visto, e questa è tutta la definizione, che cos'è dato di tipo aperto secondo la legge italiana, secondo il codice dell'amministrazione digitale? Un dato che deve avere tre caratteristiche, e questa è la prima. Devono essere i dati disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permette l'utilizzo da parte di chiunque anche per finalità commerciali in formato disaggregato. Ok? Quindi, tutte le licenze non commerciale sono già escluse. Poi, punto due, seconda caratteristica, sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Ivi, comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, secondo la definizione di formato aperto che è qua nel CAD, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per il laboratorio sono previsti dei relativi metadati. Ecco, la persona che aveva chiesto dei metadati è appena andata via però qua avremmo avuto la risposta. Cioè, i dati non devono essere solamente messi fuori ma devono essere messi fuori in un formato così, cioè come vedete, fruibile attraverso la tecnologia. Machine readable diremmo in inglese. Perché se no, ripeto, del faldone scannerizzato, del faldone di carta di 150 pagine con tutte le, non so, con tutte le spese fatte, non ce ne facciamo nulla perché ci vuole poi un omino, devo pagare un omino che si metta lì a copiarmeli, ok? Quindi la pubblica amministrazione è pregata di darmi direttamente il file in questo formato qua. Quindi vedete che qua siamo già usciti dall'ambito puramente legale, puramente giuridico che interessa a me, ma siamo più su un piano tecnologico. E poi devono essere resi disponibili gratuitamente, quindi una questione anche economica, quindi giuridico, tecnologico ed economico, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i di comprese le reti telematiche pubbliche e private oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. Quindi vedete tre componenti, appunto giuridica, la licenza, punto uno, punto due invece la questione tecnologica, il formato e il fatto di essere machine readable e con metadati e terzo la questione economica, cioè mi devi dare gratuitamente o al massimo mi devi chiedere il costo marginale per averli riprodotti, cioè a volte la pubblica amministrazione pensate a un piccolo comune dice io il dato ce l'ho, te lo do anche digitale però digitalizzarlo mi costa perché io non ce l'ho perché mi stai chiedendo un documento che è dell'87 e io non ce l'ho digitale quindi te lo do digitale ma tu mi devi pagare il costo per la digitalizzazione e questo è come dire comprensibile perché sennò ricaderebbe sulle pubbliche amministrazioni soprattutto quelle piccole un costo che loro non possono sostenere. Infine l'anno dopo cambio di governo ci fu il cosiddetto decreto trasparenza è stato il primo atto normativo importante del ministro Madia era appunto un decreto che spingeva molto nella direzione della trasparenza pubblica e aggiungeva delle norme che rafforzavano l'open by default perché cosa succedeva? Individuava dei dati che devono essere a pubblicazione obbligatoria cioè le pubbliche amministrazioni non si possono rifiutare di metterli fuori cioè non devono aspettare che un cittadino gli richieda li devono mettere fuori perché c'è un elenco all'interno del decreto trasparenza che individo quelli sono i dati che loro devono per forza mettere fuori e non solo hanno stabilito le sanzioni per i dirigenti perché? Perché si erano già accorti anche in quel semplice anno che era passato che l'inerza continuava perché? Perché i dirigenti non avevano una sanzione una penalizzazione di carriera se non mettevano fuori i dati e loro dicono ma sì la legge dice che dovrei mettere fuori ma tanto se anche non li metto fuori non mi fanno nulla e allora continuavano nella loro inerzia ecco che col decreto trasparenza è stata come dire rafforzata la direzione verso l'open data e verso la trasparenza dice l'articolo 7 del decreto trasparenza che le informazioni dati oggetto di pubblicazione obbligatoria quindi questo sotto insieme degli open data pubblici sono pubblicati in formato di tipo aperto nel senso dell'articolo 68 del CAD quindi deve essere anche un formato aperto e devono essere riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e rispettare l'integrità cioè quindi secondo questa definizione i dati del decreto trasparenza per le pubblicazioni obbligatorie possono avere al massimo una CC BY oppure una CC BY ND cioè una no derivatives discutibile perché va in conflitto con la definizione di open data che invece abbiamo visto essere più diciamo accettata a livello internazionale quella contenuta nella open definition che abbiamo citato prima però vabbè questa è stata la scelta del decreto trasparenza del 2013 le linee guida sull'open data sono uscite pochi anni dopo le linee guida come sapete non sono una legge sono delle linee guida è vero che sono emesse dal ministero e quindi hanno come dire un forte valore persuasivo perché se l'ha detto il ministero vuol dire che quella è la strada da seguire però non hanno un valore puramente diciamo pienamente normativo le linee guida dell'agis sull'open data il tema delle licenze al capitolo 8 ci dice questo che si vuole ribadire nelle linee guida l'importanza di associare i dati pubblici a una licenza aperta che consente di rispettare i requisiti di interoperabilità anche trasfrontaliera e di massimo e di massimo riutilizzo dei dati cioè cosa vuol dire interoperabilità trasfrontaliera cioè non limitandosi a selezionare una licenza che sia valida e nota entro i confini nazionali ma quindi una licenza che sia conosciuta quindi è stato il modo per dire alla IODL di starsene fuori dal gioco cioè se tutti gli stati continuano a utilizzarsi delle licenze nazionali poi siamo sicuri che i nostri dati non usciranno mai dai nostri confini ma visto che in quel periodo era anche arrivata una direttiva europea la cosiddetta PSI Public Sector Information che adesso è arrivata già alla sua terza versione i dati devono almeno uscire in ambito europeo quindi se io metto io pubblico amministrazione italiana anche se sono un comune o una provincia o una regione o un ASL devo ragionare nell'ottica di scegliere una licenza che anche in Austria o in Francia possano riconoscere e capire perché se no non usciamo vivi e allora sostanzialmente ci stanno dicendo di usare o una Creative Commons CCBuy o una Creative Commons CCBuy oppure al massimo una Creative Commons CCBuy ok 4.0 lo do per scontato infatti come vedete nella pagina successiva nella slide successiva c'è l'altro strato della linea di guida che dice in generale si consiglia l'uso di una CCBuy scusate di una licenza CCBuy 4.0 non usciamo tanto se vogliamo arrivare a fare open data vero e non creare continuamente scocciature e problemi di compatibilità quella è l'unica soluzione oppure io continuo a insistere la caldeggio il CC0 cioè la scelta ancora più radicale cioè togliersi il problema radicalmente perché tanto le pubbliche amministrazioni quei dati li devono comunque mettere fuori sono obbligato a farlo per legge quindi non c'è nemmeno un rilevante investimento per fare quel tipo di attività cioè il mettere fuori gli orari degli autobus in un comune non è un'attività che fa per una questione di investimento ma perché lo deve fare per forza è una sua mission istituzionale ok quindi insisto in questa direzione come vi ho detto arrivo scusa così chiudo vi rilascio vi rimando a queste mie lezioni su quella che avevo fatto per Regione Lombardia sull'assessi dei dati e sui diritti sui dati e soprattutto delle letture non l'ho citato ho citato tutti questi autori tutte queste opere tranne l'amico Maurizio Napolitano che come sapete è anche lui molto attivo nell'ambito della community OpenStreetMap ha fatto un bel articolo l'anno scorso su il dibattito non ancora concluso non ancora chiuso su quale licenza utilizzare per gli open data lui l'ha intitolato quale licenza per gli open data punto di domanda fra parentesi la storia è infinita perché è vero leggete il suo articolo ed è fatto molto bene fa capire come non se ne esce mai vivi perché da ogni parte c'è qualche forma di incompatibilità e poi c'è un recentissimo articolo di Carlo Piana quindi non è stato trattato nel libro che vi ho citato nel suo libro che vi ho citato perché è proprio di due settimane fa è un articolo sul caso di Trenitalia quest'estate Trenitalia ha fatto causa a una società a una piccola start-up che fa l'app Trenit che è un'applicazione che permette di monitorare il traffico e i ritardi dei treni proprio facendo leva sul diritto sui generi se c'è una sentenza che Carlo ha commentato molto bene è un articolo un po' difficile da legger perché è molto giuridichese molto legalese però vi invito a leggerlo vi ricordo che le mie slide sono sotto licenza ccby.sa su un'opera come la mia una ccby.sa invece funziona bene le trovate sul mio slasher spero di aver contribuito a comprendere finalmente questo argomento per i secoli dei secoli a venire grazie